Quanto dobbiamo intervenire con gli altri per aiutarli? È giusto aiutarli o devono fare il loro percorso? Se noi non aiutiamo le persone, mica ce la fanno. Pausa. Mica ce la facciamo se non le aiutiamo. Seconda pausa. Vedete, c'è un fraintendimento tra autorità e autorevolezza. Ve lo siete mai posto? L'autoritario è un nevrotico. Chi impone è un nevrotico. Che sia un insegnante, che sia un genitore, che sia un guru, è un nevrotico. L'autorevolezza non è l'autoritarietà. La violenza, l'imposizione. È offrire la nostra esperienza. Offrire anche il frutto delle nostre fatiche. La memoria di quanto è stato difficile per noi lasciare un certo attaccamento. Quanto è stato per noi duro sciogliere un nodo. E quanto poi è stato leggero il salire, l'ascendere. Quanto è stato gioioso e affascinante quel lavoro quando si è intravista la soluzione. Ma tutto questo può essere solo offerto. Quando è imposto è un disastro. Dunque, non esimersi dall'aiutare. Dobbiamo aiutare. Ma l'aiuto non deve essere imposto. Altrimenti non è più un aiuto. È l'esercizio di una proiezione egoica. È il desiderio di dominare le persone. Di sfruttarle. Di sottoporle a noi. E allora vuol dire che non le consideriamo come noi stessi. Allora significa che noi non abbiamo la stessa gentilezza, accoglienza, cortesia, amore verso l'altro come l'abbiamo per noi. Noi vorremmo che qualcuno si imponesse così a noi? La risposta è no. E quindi noi non dobbiamo imporci agli altri. Neanche quando sono figli, giovani, pargoletti. Dobbiamo insegnare loro attraverso l'esempio. Attraverso il fornire loro differenti punti di vista. Sappiamo che mancano di esperienza. Sappiamo che sono soggetti a condizionamenti. Sappiamo che i sensi sono molto forti prima della maturazione della funzione critica. Quindi vogliono quello, vogliono quello, se no piangono. Pensate, ci sono persone così anche anagraficamente adulte, ma mica sono adulte, mica sono maturate psichicamente. Sono maturate negli archivi dell'anagrafe, ma non nella loro crescita, evoluzione, eccetera. Dunque, si devono aiutare le persone? La risposta è sì, assolutamente. Aiutando loro, aiutate voi. Il docente che ama la docenza, che ama l'insegnamento, che ama condividere le scoperte e le realizzazioni che ha avuto, cresce mentre insegna, come cresce il discente, lo studente. Ha in queste due grandi figure, Re Pariksit e Shukadeva Goswami, il primo, lo studente, per così dire, l'imperatore del mondo, ma sapete, gli imperatori hanno più problemi degli altri. E il maestro universale, Shukadeva Goswami, si realizza educando Pariksit, che era il prototipo dello studente, del discepolo. Quindi, quando noi possiamo aiutare qualcuno, dobbiamo pensare che stiamo aiutando noi stessi. Dobbiamo evitare di cascare nella trappola del dualismo. Lui è me. È me quando io avevo quel problema. È me quando io ancora credevo che le cose stessero in un certo modo. È me quando avevo quell'età. È me quando avevo quell'attaccamento. È me quando avevo... Noi abbiamo già avuto esperienze di altri. E anche quando non ce lo ricordiamo, e quindi crediamo che i problemi li abbiano solo gli altri, dobbiamo sentirci immensamente umili. Più alto è lo scopo, più umiltà è richiesto. È richiesta umiltà proprio perché passa meglio l'insegnamento. È più liscio il passaggio, è meno spigoloso, meno rospiglioso, meno ruvido. Se noi ci poniamo nella posizione di chi deve imparare e sappiamo quanto l'ego protesta nel sottostare a un insegnamento, noi dobbiamo favorire l'apprendimento e sfuggire al tranello, alla trappola, all'agguato che l'ego fa a ciascuno. Quindi più noi abbassiamo il nostro profilo, più noi sentiamo veramente, non per politica, non per policy, non per convenienza di tipo mondano o egoico, ma proprio perché sappiamo queste cose, perché conosciamo le dinamiche della psiche, perché sappiamo come scattano meccanismi di rigetto, di rifiuto, non appena l'ego entra in competizione con un altro ego. Quindi noi dobbiamo averlo sciolto, quest'ego. La nostra è sicuramente una scuola di vita. È una scuola che io rappresento, una scuola millenaria, una scuola che ha tramandato un sapere antico, eterno, una filosofia perenne. Ma per tramandarla non dobbiamo pensare che sia qualcosa che ci appartiene come proprietà, è qualcosa che noi abbiamo il privilegio di poter passare. E certo, questi passaggi richiedono tutta una serie di accorgimenti. Ed è chiaro che mentre viviamo in questo mondo, direbbe Platone, incarcerati in un corpo, è Platone che lo dice, incarcerati in un corpo, questo corpo va nutrito, va vestito d'inverno, va spogliato d'estate, deve essere curato. Pensate al corpo di un bambino, un bambino non sa niente, non sa parlare, non sa camminare, non sa pensare, non sa scegliere qual è il cibo, cos'è nutriente e cos'è velenoso. Tutti noi siamo passati da quella fase di bambini. Se noi non fossimo stati aiutati, come ci si può porre la domanda se si devono aiutare le persone o no? Certo che si devono, è un must, è un obbligo aiutare le persone, ma non obbligarle ad accettare il nostro aiuto. Questo è completamente diverso. Noi dobbiamo offrire, per prendere la modalità dell'offerta, non imporre.